Una famiglia include genitori e figli. Mia madre si prende cura di me. Mio padre mi aiuta con i compiti. I genitori amano e proteggono i figli. Sorella. Ho una sorella di nome Sara. I genitori amano. Io e mio fratello giochiamo insieme. I genitori amano e proteggono i figli. I nonni. I nonni sono saggi e amorevoli. I genitori amano e proteggono i figli. I genitori amano. Nonno racconta divertenti storie. I genitori amano e proteggono i figli. 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 I genitori amano eCEMII回 Il mio nipote è energetico e divertente. Bambino. Il bambino ride e borbolla. Il bambino ride e borbolla. Un bambino piccolo impara a camminare e parlare. Adozione. L'adozione unisce le famiglie. Amore. Amore. L'amore è il legame che ci tiene. Abbraccio. Gli abbracci mostrano amore e affetto. Un bacio. Un bacio è un segno di attenzione. Già. Casa. Casa è dove si trova la famiglia. Buon bacino. 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 Ma quando siamo allontani, noi siamo insieme come famiglia.